Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video per aggiornarvi su quello che è lo stato del mio ordine riguardante il Vicopter Falcon della Zero Zero Robotics. Sapete questo drone con solo due braccio ma non ve lo sto neanche più a descrivere che alla distanza di due anni sembra finalmente prendere forma nella realtà. Pochi giorni fa ho condiviso in un video uno youtuber che l'ha ricevuto, che l'ha provato, questo youtuber Alisma, una cosa del genere, che dopo aver avuto per primo lui l'App San Zino Mini Pro adesso è il primo ad avere questo Vicopter Falcon. Quindi questo sta a significare che comunque il prodotto sembra che stia per prendere forma e se andiamo su YouTube adesso troviamo altri video di altri youtuber che l'hanno ricevuto. Quindi da tutto questo ho iniziato a prendere fiducia per quanto riguarda il mio preordine. Perché come sapete ormai, chi mi segue da tanto lo sa, chi invece ha iniziato a seguimi da poco magari non lo sa, questo Vicopter Falcon era preordinabile due anni fa. Praticamente io ho fatto il preordine depositando 100 dollari il 21 dicembre 2019. Quindi capite che non sono due anni ma poco ci manca. Era un deposito di preordine di 100 dollari che ovviamente ci permetteva sia di preordinare il prodotto che di averlo ad un prezzo complessivo più basso rispetto a quando poi il prodotto sarebbe stato messo in vendita. Quindi 2019 preordine 100 dollari. Dopo il tempo è passato, non si è saputo più niente. Io ho scritto varie email alla Zero Zero Robotics in cui mi rispondevano sempre dicendo che comunque quel periodo che ormai tutti conosciamo è stato l'inizio della pandemia che tuttora stiamo vivendo e che comunque tutto quello ha comportato un ritardo assurdo nella produzione. Perché poi in una parte di quel periodo, inizio 2020, anche la Cina era stata chiusa a livello di industria, vi dicendo. Quindi tutte queste risposte riguardanti sempre il ritardo causa Covid. Adesso invece ragazzi, dopo aver visto il prodotto in mano da alcuni youtuber, è successa una cosa due giorni fa veramente inaspettata. Mi è arrivata un'email dalla Zero Zero Robotics. Quando mi è uscita la notifica di una mail ricevuta dalla Zero Zero Robotics, veramente mi si è fermato il cuore. Ho avuto un attimo di e l'email è questa, che mi invitava a saldare il drone, ovviamente perché adesso in teoria è pronto per essere spedito. Quindi adesso lo si può saldare. Ovviamente prima era impossibile saldarlo. Non è che se uno voleva lo poteva saldare prima. No, era impossibile. Non c'era proprio neanche la voce per poterlo fare. Quindi a questo punto ho cliccato e sono entrato nella pagina per saldare il mio conto. Infatti adesso c'era appunto la casellina che mi permetteva di poter saldare la rimanenza. Quindi dopo i 100 dollari di deposito, quello che io dovevo andare a saldare erano i 599 dollari rimanenti. Quindi calcolando questa cifra in euro, stiamo parlando di circa 530 euro, 540 euro di saldo, più i 100 dollari di deposito. Quindi il drone in euro mi è costato circa 600, 610 euro spedito. Sicuramente un prezzo non low cost, ma un prezzo di un prodotto sicuramente innovativo, poi il prezzo quasi di un DJI Mini 2. Però qua ovviamente non è un drone sotto i 250 grammi, ma un drone però con caratteristiche uniche e super super particolari. Ma in questo video non vi sto a descrivere il drone perché tanto ormai lo conoscete tutti benissimo. Quindi email che mi invitava a saldare. Cliccato, entrato nel mio profilo 00 Robotics dove c'era la possibilità a quel punto di saldare il mio ordine, saldato il mio ordine con Paypal. Nei vari metodi di pagamento ovviamente c'è anche Paypal, saldato con quello perché ragazzi per non sapere né leggere né scrivere è vero che probabilmente il drone verrà inviato, spero, però stiamo parlando comunque di 530 euro. Quindi pagato con Paypal, quindi nel caso entro sei mesi mi sono già appuntato la data nel telefono che mi suona tra cinque mesi se il drone non mi è ancora stato inviato per fare il reclamo con Paypal e riavere i miei 530 euro. Quindi una volta effettuato il pagamento mi si è aperta questa schermata che mi confermava l'avvenuto pagamento e dopo circa un minuto mi è arrivata un'altra email della 00 Robotics che è questa che mi confermava l'avvenuto ordine. Quindi capite che c'è stata un'evoluzione nettissima rispetto a quello che non c'è stato in questi due anni e poi vedete che in questa email c'è la possibilità di cliccare che mi manda nella mia pagina del mio ordine in cui si può vedere lo stato dell'ordine. E lo stato dell'ordine attuale è questo in cui si vede che il pagamento è stato completato con tutte le date di pagamento, le cifre pagate e in teoria qua dovrebbe prima o poi apparire la preparazione e l'invio del mio Vicopter Falcon. Speriamo che sia così ragazzi, speriamo che veramente siamo arrivati alla fine di quello che sembrava un drone fantasma, un drone che non sarebbe mai arrivato, forse stavolta è la volta buona, ci siamo anche perché diciamo qualche conferma che ci dà fiducia è il fatto che comunque ci sono più video adesso di vari youtuber ovviamente tutti asiatici attualmente che l'hanno ricevuto, quindi che lo fanno vedere volare, che l'hanno aperto la confezione, quindi si vede qualcosa di più, questa conferma di richiesta di pagamento con la possibilità di pagare con Paypal, quindi in teoria senza grandissimi rischi, speriamo, quindi adesso diamo fiducia ancora, l'ho data per due anni ovviamente per una cifra più bassa perché stavamo parlando di 100 dollari che erano circa 80 euro, una cifra del genere tradotta in euro, ho dato fiducia a Zero Zero Robotics non ritirando appunto quel deposito, lasciandolo lì e speriamo di essere ripagato con questa fiducia con l'arrivo finalmente di questo drone che sulla carta ragazzi è il drone che mi sta attirando più di tutti, più ancora delle Mini 3, più ancora delle Mavic 3, cioè veramente se dovessi scegliere quale drone provare in questo momento sicuramente è lui perché le caratteristiche uniche che ha questo drone lo rendono un drone non interessante di più e nel mondo dei drone in cui tutti si copiano, in cui tutti cercano di fare sì meglio dell'altro ma la base e le idee rimangono più o meno quelle, qua invece si è usciti veramente dal seminato creando e progettando qualcosa di diverso che poi magari non sarà il drone perfetto, poi magari non sarà il DJI killer, non sarà tutto questo ma sicuramente un drone innovativo sotto tanti aspetti e almeno diverso da provare che ci dà soddisfazioni magari diverse nel recensirlo rispetto ormai a quello che stanno diventando tutti gli altri marchi ottimi, tutti stanno facendo droni incredibili però le caratteristiche bene o male sono quelle. Qua siamo un po' sulla falsa riga anche dello Skydio dove comunque è uscito dal seminato, ha fatto un drone che veramente aveva qualcosa di innovativo dove come sapete è in grado di leggere gli ostacoli a 360 gradi ma in maniera velocissima quindi un drone veramente super alternativo a tutti quelli che c'erano fino a quel momento e qua siamo su una cosa simile, diversa per concezione, diverso per utilizzo ma simile per innovazione e ricerca di novità. Quindi ragazzi spero che questo mio aggiornamento riguardo il mio ordine del Vicopter Falcon della Zero Zerobotics vi sia piaciuto, spero che arrivi presto, comunque se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram, porto tante novità, spoiler, anteprime anche del Vicopter Falcon e novità di quello che è il mio ordine lì sicuramente magari arriva prima che su YouTube, sempre se vi va iscrivetevi al mio Telegram Offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al mio canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità o gli aggiornamenti dell'ordine del mio Vicopter Falcon. Quindi ragazzi ciao, alla prossima!